Ciao! Vuoi acquistare un veicolo nuova SACAR? Non sai qual è il metodo di acquisto più adatto a te? Sono qui per spiegarti le differenze tra i principali sistemi di acquisto. Puoi scegliere fra tre tipologie, finanziamento, noleggio e leasing. Avrai sicuramente sentito parlare di Idea Ford, Nissan Intelligent Buy, Next Buy Volvo, Kia Lease e infine Mazda Advantage. Questi sono i finanziamenti per ogni marchio che trattiamo. Un finanziamento ti permette di guidare un'auto nuova ogni due o tre anni, avere un'auto con valore futuro garantito, usufruire del più basso costo di guida o scegliere se restituire, riscattare e sostituire. Se scegli il noleggio invece potrai godere di un costo di guida fisso e di tutti i servizi inclusi nel canone. Infine con il leasing potrai usufruire di agevolazioni fiscali, recuperare l'IVA dei canoni mensili e riscattare o sostituire il veicolo alla scadenza del contratto. Semplice, vero? Finanziamento, noleggio, leasing. Tu quale scegli?